Siamo all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Apriamo subito con l'Arezzo. Con l'anticipo di stasera tra Vispesaro e Gubbio è iniziata la 24esima giornata di Serie C. Ecco il programma completo. Vispesaro, Gubbio, Juventus, Next Gen, Ancona, Perugia, Rimini, Cesena, Fermana, Pescara, Pineto, Torres, Sestri, Levante, Carrarese, Olbia, Arezzo, Virtus, Entel, Lucchese, Spal, Re, Canatese, Pontedera. Questo il turno della 24esima giornata. Il calcio a mercato si è chiuso con questi 24 giocatori in rosa. L'Arezzo chiuderà la stagione. Sorprende l'arrivo di Ecuban preso nelle battute conclusive del mercato. Il mercato presenta sempre delle sorprese. Quella di Joseph Ecuban è la maggiore, visto che l'attaccante, fratello del giocatore del Genova, è arrivato al termine di una giornata convulsa, caratterizzata dal grande rifiuto di Germi, che non passerà alla storia come Celestino V, ma che sicuramente non ha avuto il gradimento di Giovannini e Cutolo per la sua scelta. Ecuban è un'italo-ghalese, lato in Veneto, cresciuto calcisticamente nel Verona, ha giocato a Maltova, Francavilla e Andrea. Era in forza il Monterosia. All'attivo sei reti, non tante. Ma visto che deve essere l'alternativa, Gucci, il ragazzo sa che deve stare in panca e farsi trovare pronto all'occorrenza. Grazie ai buoni uffici di Gianni Maggi, procuratore anche di Pattarello, ha accettato di vestire la maglia dell'Arezzo e di mettersi a disposizione di Paolo Indiani, che ora ha un esterno in meno e un centrale in più d'attacco. Visto che la partenza di Iori lascia solo Gandini e Pattarello in questa dimensione tattica, considerato che Guccione si esprime meglio in una posizione più centrale, resta da capire come verrà utilizzato Catanese. Catanese, dato mezz'alaca, Catanese si è adattato a giocare in carriera anche sulla tre quarti e può fare bene pure l'interno. Sul 4-2-3-1 la sua presenza sembra essere forzata, meglio in un 4-3-3, dove avrebbe coordinate migliori anche settembrini. Per Indiani dunque le variabili non mancano, piuttosto restano da monitorare le condizioni di Renzi e Coccia. Quest'ultimo è vicino a tornare a piena disposizione. Ed è in arrivo la Virtus Entella, squadra che ha fatto il sorpasso agli Amaranto in classifica. Non ci sarà l'apporto, come noto, della Minghelli. La Virtus Entella si presenta con due punti in più rispetto all'erezzo in classifica. Anche questo aspetto non va sottovalutato, considerato il pessimo avvio dei campionati della formazione Ligori, che aveva favorito il cambio di panchina alla vigilia del match di andata. Fabio Gallo, un tecnico di grande esperienza, ha cercato di costruire con quello che si è trovato tra le mani una squadra competitiva. Aspetta un attaccante, visto che le 18 reti realizzate finora non gli regalano la giusta tranquillità. 19 sono i gol subiti e questo dato ci dice che la Virtus Entella è una squadra compatta che va dal sodo senza tanti fronzoli. Avversario dunque tosto da affrontare perché è prevedibile che venga a fare la sua partita con grande attenzione, privilegiando le ripartenze. Sotto il profilo tattico Gallo gioca un classico 3-5-2. Il giocatore più talentuoso è Clemenza, che però spesso quest'anno va in panchina. Quello più pericoloso resta Santini, che quando gioca contro l'Arezzo trova il modo sempre di fare male. A centrocampo occhio anche alla spinta dell'ex Cesenate Peterman, mentre con la Vispesaro il migliore è stato Tomaselli. Non sarà una partita facile anche perché l'Arezzo non avrà la spinta della curva che resterà chiusa dopo la decisione legata ai fatti di Ancona. In Casarezzo saranno tre gli ex, Settembrini, Chiosa e Borra. Invece in Serie D si avvicina il giorno del derby in Casa Azzurra. Partiamo da qui, sale la febbre per la partita con il Montevarchi. Antezza, hai visto lo striscione fuori con scritto vincere, che è quello che chiedono i tifosi per domenica? Sì, 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 assolutamente. Noi siamo pronti per questa battaglia. Come abbiamo sempre fatto fino adesso, da quando sono arrivato, posso dire che stiamo lavorando benissimo. Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi. So quanto ci tengono i tifosi quando ci tiene questa città e noi cercheremo di vincere la partita e di fare del nostro meglio, come abbiamo fatto fino adesso. Vi manca forse un pochino di cinismo, un pochino di incisività là davanti? Avreste portato a casa tre punti anche in riva al terreno forti? Io penso che ogni partita ha la sua storia. Noi lavoriamo tutti quanti bene, come ho appena detto, dal martedì al sabato per poi arrivare al meglio la domenica. Sono sicuro che lavorando così ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Che Montevarchi ti aspetti e che San Giovanni ti aspetti in questo derby numero 104? Posso parlare della mia squadra, dei miei compagni di squadra. Posso dire che ogni giorno diamo l'anima, ogni minuto dell'allenamento, ogni minuto della partita. Quindi continueremo a farlo e sicuramente lo faremo anche domenica. Riguardo gli avversari non posso parlare degli avversari perché so quello che siamo noi. Mi basta sapere quello che siamo noi. E domani esploreremo anche il mondo rosso-blu. Passiamo ad altro. Beatrice Coradeschi, campionessa europea di Taekwondo, poco dopo aver ricevuto il premio a retino dell'anno, ci parla dei suoi progetti futuri. Siamo con Beatrice Coradeschi a retino dell'anno, campionessa europea di Taekwondo. Intanto un bellissimo riconoscimento. Sì, sono molto contenta di aver vinto questo premio, soprattutto per tutto quello che c'è stato dietro nei mesi. Perché comunque vuol dire che molte persone mi hanno votata, mi hanno sostenuta, molte persone credono in me e questo è un grande stimolo per me. Adesso i tuoi obiettivi quali sono? Adesso l'obiettivo sarà a novembre a Hong Kong, il campionato del mondo. Spero in una partecipazione e naturalmente di tornare con ottimi risultati. Quanto ti impegni allo sport in relazione allo studio? Io cerco di portare avanti entrambi al meglio, studio e mi alleno tutti i giorni con costanza, cerco di non mancare in nulla e spero di poter andare avanti. La Dux Romolini espugna Alto Pascio e aspetta il fanalino di coda del girone Vucecchio, riconquistato il quarto posto in classifica. Torna alla vittoria in trasferta la formazione dell'immobiliare Dux di Sansepolcro e lo fa a spese di Alto Pascio. Già nel finale del primo periodo le difese delle due formazioni cominciano a prevalere sugli attacchi, ma i dieci minuti di apertura sembrano destinati a concludersi in parità. Sulla Sirena però a San trova una gran tripla che porta la Romolini immobiliare Dux sul 19-16. Sansepolcro porta l'inerzia positiva nel secondo quarto e prova ad allungare. Alto Pascio risponde infilando tre triple consecutive e tornando a contatto, ma all'intervallo si chiude in vantaggio per Sansepolcro 36-31. Ancora una volta nel terzo quarto che la Romolini immobiliare riesce a scavare il solco decisivo. Si arriva così all'ultimo periodo con la Romolini immobiliare Dux avanti 56-43 e con la sensazione che i bianconeri abbiano la partita in mano. Il 52-66 in favore della Dux dimostra la superiorità messa in campo dalla Romolini immobiliare che fa sua una partita ruvida ma fondamentale ritrovando un successo in trasferta che mancava oramai da troppo tempo. Grazie alla contemporanea sconfitta di Montevarchi la Dux si riprende il quarto posto quando mancano solo tre giornate alla fine del girone. La Dux tornerà in campo al Palasport di Sansepolcro sabato 3 febbraio alle 18.30 contro il fanalino di coda Fucecchio. Presentata l'edizione 2024 della Corsa Podistica Su e Giù per la Torre di Gnicche organizzata dal gruppo sportivo Amatori Podisti Carezzo e patrocinata dal Comune. Appuntamento per il 4 febbraio a Villa Severi dove la corsa parte e arriva. Assessore Scapecchi, per il podismo, per lo sport e per le iniziative sportive del Comune di Arezzo che valore ha la Corsa Su e Giù per la Torre di Gnicche? Basta vedere i numeri di questa corsa, la 19esima edizione, il 40esimo anniversario della Podistica Arezzo quindi numeri importanti, numeri che certificano una realtà podistica sportiva della nostra città che unisce sport a quelle che sono un po' anche, non voglio dire cultura, ma tradizione diciamo questa leggenda di Gnicche, di questo brigante centiluomo che tutti gli aretini conoscono e tutti gli aretini sono stati almeno una volta a passeggiare di fronte alla Torre. Presidente Berli, l'impressione è che il numero degli iscritti quest'anno sia ancora maggiore di quello dell'anno scorso. Sì, effettivamente rispetto ad anno siamo già una ventina di persone in più e arriveremo intorno a 350 partenti. Per la vostra attività come podistica che cosa rappresenta questa corsa? Adesso, ora come ora, insieme alla Corsa Su e Giù, rappresenta il fiore all'occhiello della nostra società e siamo dietro a organizzare questa corsa, poi quest'anno c'è anche questo 40esimo anniversario della Fondazione della Podistica abbiamo fatto queste felpe per ricordo e per dare anche agli anziani, saranno premiati alle 11, anche gli anziani della podistica che non corrono più. È nutrita anche la partecipazione femminile a questa corsa? Sì, assolutamente è nutrita la partecipazione femminile di tutte le età, diciamo dalle giovanissime sotto i 30 anni fino a abbiamo anche due delle categorie ultra 65 anni nella partecipazione, quindi veramente un gruppo nutrito, di rappresentanza femminile. Bene, così si chiude la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.